Salve e benvenuti alla Bottega Didattica, sono Gianfranco Marini e con questo video tutorial vi presenterò un'applicazione che si chiama Vibi che serve per lavorare con i video, infatti possiamo prelevare un video e evidenziarne le parti che ci interessano, commentarle tutte le altre parti verranno eliminate e verranno conservate soltanto le parti che ci interessa mostrare ai nostri studenti in questo modo potremmo eliminare tutte quelle parti ridondanti o che comunque non sono pertinenti al discorso formativo che stiamo portando avanti e che quindi non ci interessano e quindi un video magari di mezz'ora, di un'ora diventa un video di 10 minuti in cui conserviamo l'essenziale digitiamo Vibi su Google ecco il primo risultato che ci compare ci colleghiamo a questa applicazione che è un'applicazione free quindi non richiede un pagamento di uso libero questa è la home page di Vibi ci dovremo loggare naturalmente qualora non siamo loggati dovremo registrarci cliccando su questa tabella possiamo direttamente entrare con l'altro account Google o Facebook o Twitter io entrerò naturalmente potremo anche fare una registrazione con la mail e quindi inseriremo l'indirizzo mail e la password scelta io mi sono già registrato e quindi entrerò nel mio account bene, questo è l'account per creare un Vib così viene denominato il video rielaborato cliccherò qui naturalmente ho anche il mio profilo qui posso appunto editare il mio profilo per esempio potrei inserire qui un'immagine e così via ma concentriamoci sul Vib quindi Create Vib bene, che cosa devo fare? devo semplicemente incollare in questo riquadro un video che mi interessa e su cui voglio lavorare io mi sono già preparato un video incollo il link e via bene, si tratta di un video di filosofia una video lezione realizzata da me sulla logica di Aristotele dura 14 minuti a me interessano pochi minuti vediamo come funziona facciamo partire il video adesso elimino il volume e immaginiamo di voler cominciare da questo punto dove si cominciano a spiegare a spiegare il concetto di logica delle proposizioni aristoteliche Start, highlight, comincia a evidenziare ecco qua a un minuto e venti circa ho iniziato a un minuto e trentadue ho iniziato a evidenziare e adesso siamo a un minuto e quaranta faccio procedere il video sono effettivamente congiunti anche nella realtà e quindi c'è una corrispondenza tra ciò che diciamo e ciò che esiste sono io che parlo mi porto avanti non congiungiamo ciò che è congiunto eccetera prima di tutto le possiamo classificare e anche naturalmente singolari o individuali insomma Socrate è giusto quando la proposizione fa riferimento a un unico ecco qua mi interessava la spiegazione di questo riquadro per chiarire in modo più approfondito abbiamo iniziato e finito come si vede il video sta continuando ad andare io lo fermo quindi quando io salverò questo vib gli alunni vedranno soltanto questa parte naturalmente potrebbe interessarmi anche qualche altra parte per esempio poniamo ecco la spiegazione del quadrato degli opposti poniamo che inizi qui controlliamo automaticamente potremmo dire quando inizia qui ecco inizia qui il quadrato degli opposti le relazioni prevalori di verità e poniamo quindi iniziare qui Start Highlight e poniamo che finisca mi porto avanti adesso per vedere dove finisce il brano ecco sta per finire Bene esaminiamo adesso questo quadrato posso replicare questa operazione in cui inserisco il punto iniziale il punto finale da tagliare e da conservare finché voglio ma la cosa interessante poi è che oltre che evidenziare quindi creare una sorta di video riassunto vi permette anche di creare di commenti fermiamo il video vedete infatti che nella prima parte questa in viola che appare evidenziata in viola infatti anche qui vedete viola io posso inserire un commento cioè posso inserire per esempio delle istruzioni agli studenti o una domanda per esempio perché che sia pertinente con quello che hanno ascoltato per esempio qui per quanto riguarda la seconda parte che ho evidenziato posso inserire qualche altra osservazione vedete ho scritto alcune indicazioni alcune domande alcune osservazioni clicco sul tasto di spunta e il commento verrà salvato e visualizzato dagli studenti diciamo che a questo punto ho finito di temporare il mio video devo semplicemente salvare cliccherò qui qui mi indica la fase della rielaborazione del video a cui mi trovo adesso mi trovo alla fase di sottolineatura delle varie parti da condividere salvo il mio video qui dovrò dare un titolo lasciamo lezioni di filosofia qui dovrò descrivere il mio vib scriverò per esempio gli argomenti logica delle proposizioni quadrato degli opposti con due p magari bene a questo punto indico una categoria in questo caso education posso anche rendere privato il vib io lo lascio pubblico e a questo punto lo salvo ecco qua ho salvato il mio vib per condividere con gli alunni userò questo link avrò anche la possibilità di ottenere un codice per incorporare per esempio nel mio blog nel mio forum nel mio sito questo 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 video copiando questo codice qui potrò naturalmente condividerlo nei principali social network come share facebook twitter reddit o via mail questo è l'essenziale bene ho creato un fint account per uno studente a cui mi collegherò adesso con lo studente ho condiviso tramite link il video che ho preparato e questo è quello che lo studente vedrà vedete ci sono due grandi spezzoni facciamolo partire lo studente ascolta vediamo la transizione si passa all'altro spezzone e questo è quanto ho conservato e leggerà anche questi due miei commenti a cui potrà rispondere perché per esempio postare questa sua risposta e così via adesso qui noterà anche che il professore ha fatto un errore potrà rispondere anche a questo commento eccetera in questo modo naturalmente il professore a sua volta può rispondere al commento dell'alunno altri studenti possono rispondere inoltre vedete che si può anche taggare la persona a cui ci si rivolge basta usare il tasto at e usare il nome che ha su Wibi per esempio questo è lo studente che sta scrivendo al professore che si chiama Gianfranco Marini lo studente Gianfranco Marini 1 eccetera in modo che chi riceve questo commento sa di essere lui direttamente interpellato in questo modo si può aprire un dibattito abbastanza ampio si può usare in vari modi si può per esempio dare l'incarico a uno studente o agli studenti di creare dei video riassunti o lì si può dividere in gruppi e a ciascun gruppo assegnare che sono un documentario di storia un documentario su un autore un documentario su un personaggio e far sì che si individuano i punti essenziali le sequenze essenziali del documentario e che attraverso commenti appositi evidenzino le parti più interessanti pongano dei problemi e così via insomma si possono immaginare vari utilizzi la cosa più interessante che è estremamente semplice è che consente di lavorare con i video che sono sempre più importanti nella didattica online grazie per l'attenzione e buon utilizzo di Eviby e arrivederci ad un prossimo video tutorial